Oggi ci troviamo in Val Chisone, nello specifico a Dussò, c'è scritto non si ha conoscenza della data di costruzione, certo che venne utilizzato fino all'inizio degli anni 70. Tutta di ferro, poi da sopra, da lì sopra dove c'è, ma quanto bello è sto paesino, poi una radice di, dal paese di Dussò, eccolo qua, noi vi salutiamo. Ciao, 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 ciao. Ah che bello oggi la montagna ragazzi, ma cosa c'è di meglio di una splendida giornata tra le montagne e tra la neve? Comunque siamo riusciti a prendere una giornata bellissima come tempo, ma freddissima, c'è meno due. Bene, benvenuti o bentornati in questo nuovo video ragazzi. Oggi ci troviamo a Frais, uno dei quattro paesi insieme a Dussò. La particolarità di questo paese è praticamente che è stato riempito di sculture, di legno. Bene, andiamo a visitare questo paesino che sono curioso di vedere anch'io com'è. Comunque guardate che bello, già questo ponticello che attraversa questo torrente, parecchio bello, l'acqua è limpida. Comunque sono sempre belli questi paesini con queste stradine, questi piccoli viaretti. Comunque se volete un gelato, guardate c'è anche il gelato di una volta, gusto ghiaccio. E qui al lato è un pezzo di una vecchia scala, quello che ne rimane. Dai, venite, venite che ci infiliamo in questo viottolo qua, vediamo dove andiamo a finire. Ciao! Ciao! E questo che c'è sulla mia sinistra, vedete, è il forno dei Freis, quindi praticamente i tempi che furono, gli abitanti di questo paesino si ricavano lì per cuocere il pane e per comprarlo. Guardate che bella questa scultura qui, che rappresenta il drannito del cervo. Questo qui che vedete rappresenta praticamente, c'è scritto il cartello di fianco, l'arcolaio e la zangola, quindi praticamente filavano la lana. Questo signore qui invece rappresenta, una volta facevano il burro, questa era la burriera. Guardate le lampadine dei classici paesini, dei borghi, di una volta. Adesso quelle lampadine l'hanno cambiata, ho messo quella moderna, ma la plafoniera intorno è vecchia di una volta, con il campanello di una volta, vedete quella cordicella. Eh, quella era già la modernità di una volta, altro che il videocitofono, anzi quello era un videocitofono, nel senso che le case una volta erano di fronte una di fronte all'altra e quindi quando suonavano il campanello direttamente uscivano dal balcone. I've changed for the better this time. Bene ragazzi, anche per questo breve video è tutto, siamo arrivati alla fine. da questo meraviglioso paese di Frais, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video perché questo è solo il secondo degli altri tre paesi che ci rimangono da visitare collegati con il paese di Usso, quindi non perdetevi il prossimo video, attivate la campanella, noi vi salutiamo, un mega saluto di cuore da Fabri e Lisa. Ciao! Se questo video vi è piaciuto, come sempre, iscrivetevi, commentate, condividete, vi ricordo ancora che abbiamo aperto le pagine Facebook e Instagram. Di nuovo, un mega saluto ragazzi. Ciao! Ciao, 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 ciao! Ciao, ciao, ciao!